La giunta di Ponte Cagnano-Faiano ha approvato il progetto Condividere i bisogni per condividere il senso della vita per l'annualità 2019. L'iniziativa, giunta al sesto anno, coinvolgerà 200 nuclei familiari in particolari condizioni di disagio socio-economico con la consegna mensile di pacchi alimentari contenenti generi di prima necessità. Il servizio sarà gestito dall'associazione Banco Alimentare Campania Ollus di Fisciano per un totale di 10.000 euro. Grazie.